guarda William, i nomi, i nomi, e poi, e poi faccio Italia, uno a fuori e poi ce lo invia Italia a una cioè vedi che c'è a binario ah vedi che Italia, corremo, dai ci dobbiamo uno veramente dovresti dire Italia a casa, che ci sarebbe meglio salvatore l'Italia bellissimo